E' una storia semplice, una storia di uomini semplici che vivono e soffrono nelle profondità della terra, ma più essi scendono in basso, via via che il destino si mostra ai loro occhi nella sua veste più crudele e spietata, lentamente prende forma, ingigantisce, esplode l'unica forza che può ricondurli alla superficie della vita, l'amore di una donna. E non importa che genere di donna, perché anche la più libera, la più audace, la più licenziosa, diventa in certe situazioni fondamentalmente la più pura. Ma guardate la che tu di tirarmi, hai capito, ma hai stufato, ma avete stufato tutti quanti oggi, mi avete dato le scatole, va bene? Ma cosa c'entro io? Fai venire di sera che mi fai la lagna, me l'hai mandata di traverso questa domenica, sei coltetta, adesso però basta! Questa è una delle strade secondarie di Amsterdam, in un certo senso una delle più tranquille, delle più pulite, delle più signorili, di giorno. Ma quando la sera scende sulla città, la strada si anima, le finestre si illuminano di una luce equivoca, le vetrine si popolano dell'unica merce che viene messa in mostra in questo quartiere. Tutti uguali voi uomini con il cuore fra i piedi! Quando che la pianti, deve farlo spiritoso, eh? Guarda che casomai la pianti tu, perché a me così non mi ha mai parlato nessuno, hai capito? Beh, oggi ti parlo io e se vuoi proprio saperlo, te lo dico in faccia a quello che penso, mi fai schifo! Guarda che faccia il mongere!